Buongiorno, allora cominciamo con il voto zero a Fabio Capello, una figura che è diventata commentatore di calcio molto tempo fa, ha avuto bisogno di tre mesi e passa, quattro, facciamo due e mezzo tutti, per indicare la sfida scudetto, quella tra Inter e Napoli. Poi magari non finirà così e quindi sbaglierà lui e quindi sbaglierò io, ma non credo, io Inter-Napoli l'ho messa a sfida scudetto il 31 di agosto, fine. Secondo punto, voto zero a Stramaccioni, quindi come avevo spiegato e scritto su quel cesso di Twitter che la sfida sarebbe stata tra Inter e Napoli per lo scudetto, con l'Inter favorita sul Napoli e per me ancora oggi vincitrice dello scudetto che verrà. Capello arriva dopo, ma chi arriva dopo? Voto zero a Capello, voto zero a Stramaccioni che adoro e che ho adorato come persona allenatore, però mi spiace, prende un palo clamoroso come tanta gente che mi scrive anche in privato, che ha sparato cazzate, mi chiedeva perché dicevi del centrale, perché fai queste battaglie sul difensore, perché? Perché c'è Acerbi, perché c'è Debrai, eccetera, eccetera. E io qui, visto che mi rompete il cazzo perché non posso fare mezza critica ad un allenatore che ha fatto una marea di errori in questi anni, ha fatto cose buone ma ne ha fatte una marea di cose sbagliate, io invece ho difeso Inzaghi, cosa che molti non hanno fatto, perché non vedendo il problema, ok? E io ho difeso Inzaghi, ho detto se Inzaghi chiede un centrale dopo che ha portato Acerbi ed ha avuto ragione lui perché la società non lo voleva accontentare, mentre su Acerbi bisogna fare gli applausi ad Inzaghi, a quanto ha fatto spendere la società e a quanto ha reso Francesco Acerbi, quindi applauso a Simone Inzaghi, io ho cercato di difenderlo Simone Inzaghi, lo dico anche a Torre che mi fa due coglioni così, io, visto che i problemi li vedo, quando Inzaghi chiede un centrale, un difensore centrale, quando chiede di andare in anticipo, di non aspettare che ad Acerbi e a Debrai vengano le rughe, io dico facciamo sta battaglia insieme, e invece, e invece un bel cuscino, un bel pisolino, peccato che il pisolino è durato pochissimo, ok? Perché siamo al 31 di ottobre e tutto quello che scrivevo sempre in quel cesso della stazione chiamato Twitter OX si è poi rivelato vero e si è materializzato in questi giorni, ma il problema era esistente, quando Debrai si fa male agli europei, giocando da Dio, quando Acerbi dice ho questo problema, mi operano qua, pulbagia, hernia, eccetera, eccetera, qui si era capito che dovevi anticipare, quando Beppe Riso, quando Beppe Riso va all'Inter, perché lo chiamano e gli dicono dall'Inter, aspetta un attimo, com'è sta storia che Buongiorno va al Napoli da Conte, al Napoli da De Laurentiis? Lui dice, eh, che cazzo vuoi, lo so che ti piace da una vita, lo so che Buongiorno ha parlato già con Bastoni e con gli altri nazionali e vuole venire da voi, ma progetto Napoli interessante, sai che poi Conte è uno convincente, i soldi mi li danno e a Napoli si cagano sotto. E allora io cosa dicevo all'epoca? Uno, ci sarà un problema di difesa molto presto, due, ci sarà un problema del centrale, tre, Inzaghi in difesa non è bravo, ha bisogno di uomini perché non è capace di fare la fase difensiva, non è mai stato capace e quindi se ha degli uomini forti o i suoi e gli sta dietro, allora può fare bene, altrimenti nei quattro anni all'Inter abbiamo visto che solamente l'anno scorso si è concentrato sulla difesa, gli altri anni abbiamo iniziato e finito parecchio male. Ora, quando non hai, diciamo, quando non sei superlativo sulla difesa, ma c'è chi lo aiuta nello staff, devi avere però la forza e il coraggio, uno, di prendere giocatori forti, due, di prendere qualcuno che, o di accontentare appunto in questo caso Inzaghi. Invece non l'hanno accontentato, non hanno visto il problema, però, e ne parlerò tra poco, l'Inter punta alla doppietta campionato Champions e poi dirò la mia su questa storiaccia. Però volevo chiudere il discorso, quindi voto zero a Capello, voto a zero, se si è accorto della sfida, voto zero a Stramaccioni, voto zero all'Inter per la questione del centrale. Anche perché, e chiudo, se oggi avessi buongiorno in rosa e a gennaio ti chiama puttacaso il Tottenham, il Liverpool, il City, che ti dice, senti, questo buongiorno è proprio forte, ti posso dare 60-70 milioni, perché in Inghilterra fanno così, e tu l'hai pagato 35, tu buongiorno in quattro mesi lo vendi al doppio. Questo è. Buongiorno era un bene, buongiorno era un vino da collezione, buongiorno era l'oro o il rame in questo momento storico, buongiorno era qualcosa dove tu investivi ad agosto, tirando fuori dei soldi, trovavi la formula con Cairo, tanto Cairo non è che gli servissero subito, e poi avevi un bene che oggi valeva il doppio, magari a fine anno valeva il triplo, perché buongiorno è un fenomeno. All'Inter hanno sbagliato, e quando Condò dice chi più spende meno spende, mi ruba, non la frase che è un detto popolare, ma la ruba quando si parla di buongiorno, perché queste cose le ho detto io, solo che loro sono in tv, e io sono qua, ma siccome a me non me ne frega un cazzo di andare in tv, ci sono anche stato, mi interessa stare qua e continuare a vedere che quello scopre che la sfida a Scudetto è Inter-Napoli con mesi di ritardo, che sulla difesa avevo detto cose dove sembravo matto, perché poi uno è matto, no? Dico le cose mesi matto, dopodiché non parlo di quelli che avevano esaltato Motta, non vi dico nulla sul centrocampo della Juve, Kopp-Mainers 60 milioni, 65 milioni, Luiz 40-50 e Kefren Turan 30, 130 milioni di centrocampo, gol al 31 di ottobre, nel giorno quasi dei morti viventi, zero, 300 campisti, zero gol, McKennie, che io ho sempre difeso, che loro volevano buttare fuori dai coglioni e epurarlo insieme agli altri, se non c'era McKennie la Juve al centrocampo faceva zero gol, ok? Ok. Vlaovic, detto Gajardauvic, che davanti non riesce neanche a centrare la porta, ha fatto qualche gol in più dell'anno scorso, ma molto male sotto porta, la difesa, vi avevo detto, guardate che la Juve l'ha coperta corta, in più si è fatto male Bremer, diventa cortissima, ma c'è Gatti, Gatti, Gatti ieri è stato rimproverato da Danilo, che Danilo è stato rimproverato da tutti gli altri, un disastro, un disastro, però la Juve è giunto lì, e vi dicevo no, poi vi dicevo, guardate Di Gregorio, non è sto fenomeno, Cesni, quella palla di ieri, ieri Cesni prendeva tutto, ieri, finiva 2 a 1 per la Juve, o 2 a 0, ok? Invece con Di Gregorio qualcosa non è andato nel verso giusto, perché poi Di Gregorio migliorerà sicuramente, non è scarso, però Cesni era una sicurezza che toglieva i tocchi di merda dagli incroci dei pali, quindi voto zero a quelli che parlavano di Giuntoli, come se fosse il nuovo Marotta. Ora, voto zero anche a Cardinale, voto zero, video si chiama voto zero a Cardinale, che è insistente in discrezioni nel mondo della finanza, sulle difficoltà di Cardinals, di fronte alla scadenza del 31 agosto 2025, mancano pochi mesi, quando per continuare a controllare il Milan, dovrà rimborsare a Elliot quasi 700 milioni di prestito, ti devi presto, mi compri, poi mi dici dai, non ce li ho, quindi il Milan ci ha rotto il cazzo una vita, e poi riporto quello che ha detto Repubblica con Enrico Curro, il giornalista, eccetera, eccetera, io non voglio sapere, voto zero a quelli che rompevano il cazzo all'Inter, eccetera, 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 e poi gli altri sono messi male. Ora, ora, attenzione, stiamo per recuperare tutti, come vi avevo detto mesi fa, lo sapevate anche voi, che siete informatissimi, l'Inter non si muoverà da San Siro per un bel po', quindi il Venezia, il Napoli, l'Arsenal, e poi andremo vicino qua a Verona, e poi di nuovo lo Staglio, quindi l'Inter starà vicinissimo a Milano, abbiamo l'obbligo di fare bottino pieno, poi ne parleremo, ma soprattutto di distruggere il Napoli, e far capire che l'Inter non ha rivali, un po' come fece la Juve di Sarri all'Inter di Conte il primo anno, quando l'Inter di Conte era già molto forte, ma non era ancora pronta per vincere lo Scudetto, e quindi poi ce la siamo presi nel culo, ma perché la Juve di Sarri, la Juve di Ronaldo, di Dybala, di Guain, dell'esperienza, di tutti gli altri, eccetera, eccetera, e c'erano ancora Matuidi, c'erano ancora tutti questi qua, mi pare anche Emre Can, tutti, squadra atomica, l'Inter è rimasta in testa la classifica, poi fino a febbraio, marzo, poi c'era anche, vabbè, successo quello successo, e poi la Juve ha vinto lo Scudetto, questo è un po' quello che dobbiamo far capire, e noi abbiamo capito che la Juve era più forte quando è venuta a Milano, quell'ottobre in cui si fece male Sensi, e quando segnarono appunto Dybala e Guain, io lì ho capito che non avremmo vinto, ma stavamo per andare in Duomo con la Coppa UEFA, però insomma, questo è quello che dobbiamo fare noi stavolta con Napoli, distruggerli, e fargli capire che qualsiasi cosa, loro quest'anno non vinceranno mai, perché l'Inter è troppo più forte, anche per un Napoli che comunque sta viaggiando a ritmi importanti, quindi stiamo recuperando un po' di calciatori da Cerbi a Ciala, speriamo di vederli con il Venezia, ma soprattutto di vederli con l'Arsenal, ma soprattutto con il Napoli. Ora, l'ultima cosa, finalmente, possiamo chiudere con quello che secondo me a oggi, poi io voglio essere sbugiardato, a oggi per me è un voto zero a Doctri, nel senso che è un voto 10 per quello che hanno portato, perché hanno cambiato il registro in alcune cose, e sono qua per poi vendere, quindi hanno tutto l'interesse a mantenere alto il livello, ma nello stesso tempo a chiudere il discorso stadio, il discorso di una squadra lasciando la competitiva, quindi non è che vengono qua a fare danni, a parte buongiorno, di cagate non ne hanno fatte. La cagata, secondo me è che quando Marotta dice testualmente, poi lo dice anche Inzaghi, sarà difficile ripetersi, che è una baccata, perché Mancini si è ripetuto, Conte e la Juve si è ripetuto, Allè che si è ripetuto cinque volte, appunto Mancini, Mourinho, ma poi negli anni tanti allenatori da capello, quelli bravi si ripetono sempre, almeno due scudetti di fila li riescono a vincere, invece loro mani avanti, io non capivo perché, perché dovessi dire, e invece c'era un po', se gli si impappinava la bocca, come capita a me adesso, che mi viene un nervoso, comunque il sunto è che Zanetti, Marotta, Lautaro, e questa cosa io la sapevo, perché ho le mie fonti anche dallo spogliatoio, i ragazzi vogliono puntare alla Champions, allora io li lascio da oggi, da oggi punto anch'io la Champions con loro, perché questo è quello che hanno certificato, addirittura Zanetti dice testualmente, vogliamo puntare all'accoppiata Scudetto Champions, io credo che con Bissec, e altri che non nomino, che sono bravissimi, sono nel mio cuore, ma non sono all'altezza di alcuni titolari, al di là di Frattesi, che continuate a rompere il cazzo a Frattesi, che ha una media spaventosa, a volte non convince nel palleggio, però ha altre qualità, ma non contano i singoli, questa squadra con questa difesa, con questo mood, con questo attacco, dove Taremi purtroppo sta facendo fatica, dove lo stesso Lautaro è stato tornando in forma, ma è partito un po' di tardo, con Turam, che meno male che è Dio, però avete visto quanto pesa un'assenza, avete visto Monza, Genoa, il derby, la Juve, alcune partite anche in Coppa Campioni, tipo a Berna, ora, o quella del City, dove comunque non siamo riusciti a batterlo, il City, quindi devi capire, no? Ecco, ve la faccio breve, per me puntare alla coppiata, Campionato Champions, vuol dire, uno, rischio di non vincere un cazzo, se non la Coppa Italia, e magari neanche quella, due, vuol dire, non dire la verità, perché la verità è che devi dire, a noi servono tanti soldi, quindi, siccome la Champions, porta soldi, noi vogliamo andare il più avanti possibile in Champions, uno, due, ci fa gioco, perché tanti calciatori come Ciala, o come soprattutto Lautaro, che hanno vinto quasi tutto, soprattutto i Pavardi, vabbè che Pavardo ha già vinta, ma la Champions è qualcosa che rimane nella storia di un calciatore come un mondiale, un europeo, quindi, la testa, no, di chi ha già vinto come Varela, e altri due scudetti, Coppa l'Inter, è, vincere una finale europea, avendone perse due, no, questo gruppo storico ha perso due finali europee, siccome in Champions, si sentono, insomma, si sentono forti, e l'Inter è forte, non è, non è forte per fare la copiata, quindi, la verità è che, l'Inter società vuole i soldi dalla Ciala, magari fa bene, magari arrivano in semifinale, incassano di più, che vincere sei scudetti, resta il fatto che però, se poi non vincere la Champions, è vero che gli incassi ce li hai, anche se vai in finale, prendi un sacco di soldi, quindi, sul lato economico, bene, sul lato sportivo, se perdi un quarto, una semifinale, che poi vuol dire, l'Inter ha fatto con Inzaghi, una finale bellissima, ma poi ha fatto due ottavi, quindi, siamo sempre andati a casa, subito, dopo i gironi, dopo i gironi, subito a casa, ora, qual è il rischio? Che poi, non vinci in Champions, però un po' di soldi li fai, e poi in campionato, non vinci, economicamente, vincere il campionato, Cuba 48 milioni, mi pare, poi non lo so, gli sponsor, i premi, dico che arrivare terzi, o per loro, o primi, per loro, a livello di milioni, allora, se tu fai, campionato, e ottavo di Champions, guadagni meno, cioè il campionato vinto, guadagni meno, che terzo in campionato, credo, e quarto di Champions, non dico semifinale, quindi, se Rock 3 potesse firmare, per secondi, o terzi in campionato, e, non so, semifinale di Champions, firmerebbero oggi, perché economicamente, wow, a livello di Bacheca, zero titoli, e a me questo, non va bene, poi, se vogliono provare, vincere la Champions, io ci sono, e li sosterò, come fate voi, sempre, se vogliono provare, addirittura, a vincere lo scudetto e Champions, mi sembra una frase, per dire, puntiamo la Champions, ma vogliamo vincere, anche lo scudetto, puntiamo quello, perché non possono dire, puntiamo la Champions, se lo scudetto, speriamo in bene, ora, io sono il primo, che è convinto, che Napoli, avrà dei momenti, di gran difficoltà, e che la Juve, e il Milan, non possono competere, questo lo sapevo, quindi, sono belle squadre, è meglio dell'anno scorso, ma non possono competere, però anche l'Inter, ha parecchie difficoltà, quindi, per me, voto zero, a questa dichiarazione, che finalmente, come sapevo, no, chi mi conosce, chi mi segue, chi viene nel live, chi segue i miei video, sa, che io aspettavo questo momento, prima o poi, cagheranno la verità, eccola qua la verità, interessano i soldi, invece me interessano i titoli, quindi, preferisco lo scudetto, e uscire dalla Champions, oppure, ovviamente, preferisco la Champions, allo scudetto, questo è ovvio, che il signore, ce la mandi buono, e l'importante, è usare il cervello, e non pensare sempre al portafoglio.